Ciao a tutti, io sono Yoranda e oggi preparerò dei nuggets di pollo. Partiamo con la panatura. Frullo nel mixer delle tortilla. Io ho deciso di fare la panatura con le tortilla, però si possono utilizzare in alternativa anche i pretzel. Ho voluto fare una ricetta un po' differente rispetto a quella tradizionale, che prevede le fettine di pollo panate sui pretzel e poi fritte. Io questa volta ho deciso di cucinarli nel multifree, che è una frigidrice ad aria, che però ha anche la funzione di forno. Ci si possono cucinare tantissimi alimenti, tra cui torte, pizze e soprattutto le patatine fritte. Adesso vi posterò qui una foto delle patate fritte che cucino nel multifree utilizzando praticamente due cucchiai di olio. Comunque procediamo con la nostra ricetta. Per la panatura ho utilizzato dei grissini torinesi e le tortiglie appunto. Invece per quanto riguarda la preparazione del pollo, dovrete semplicemente tagliare a fette orizzontali un petto di pollo intero. E otterrete così dei tocchetti di pollo della misura giusta. Dopo averli bagnati nell'olio, con l'aggiunta di un po' di sale, potrete passare direttamente alla panatura. Grazie a tutti. Io utilizzo la carta da forno, ma voi potrete cucinarli anche direttamente sulla padella che è fornita già nel multifree. Adagiate questi tocchetti di pollo. Ci versate un filo d'olio sopra e li fate cucinare in modalità forte. Adagiate un po' di torno che automaticamente partirà a temperatura 3 per 60 secondi. Dopo mezz'ora i nuggets sono già pronti. Dopo mezz'ora i nuggets di pollo intero. Questa è la mia ricetta di oggi. Spero che vi sia piaciuta. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!